Questa sera alle 21 al Teatro Regio, concerto per i 25 anni della consulta per i beni culturali, prima iniziativa della neonata Fondazione Renzo Giubergia per la musica. Ieri la presentazione, vediamo di che cosa si tratta. Far conoscere insieme giovani talenti della musica e luoghi di charm poco conosciuti dell'area torinese. Nasce con questo doppio scopo la Fondazione intitolata, a due anni dalla scomparsa, al finanziere Renzo Giubergia, già presidente della Fondazione per i beni culturali di Torino, grande sponsor del Teatro Regio, appassionato di musica e di arte. L'iniziativa presentata ieri nella sede Ersel, storica boutique finanziaria fondata dai Giubergia nel 1936, era presente la figlia di Renzo, Paola. Francesca Camerana è la direttrice artistica di questi concerti, che avranno appunto sede in luoghi di interesse storico o artistico. Nel panorama torinese ci sono già tantissime realtà di grandissima eccellenza nella musica, per cui noi vorremmo cercare di dare una connotazione diversa alla nostra fondazione. Vorremmo cercare di far rivivere dei posti o vivere dei posti di Torino, che per problemi economici, logistici, magari perché non sono tanto conosciuti, possano rivivere attraverso la musica. Grazie. 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 Grazie.